Tu ti stai arrendendo, tu ti stai spezzando, io sto spezzando la tua volontà. Tu sei venuto qua a imporre la tua volontà, a farmi vedere che sei più forte di me, io spezzo la tua volontà. Tu ti arrendi, o batti, o qualcuno interrompe. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Persone, il podcast che mette in risalto la vita di gente comune. Nella puntata di oggi ho intervistato Mikol, una fighter di arti marziali miste, meglio note come MMA. Nonostante Mikol sia molto conosciuta in questo mondo, ho deciso di intervistarla perché questo sport, almeno in Italia, ancora non è così tanto conosciuto. E inoltre ho cercato di intervistare Mikol per scoprire più la persona che la fighter. Sono quindi molto curioso del vostro parere e vi invito a lasciare un commento qui sotto per dirmi la vostra. Io come al solito vi ricordo che la maggior parte delle persone che guardano questi contenuti non è iscritta, di conseguenza vi chiedo il favore di spingere il tasto iscriviti qui sotto per aiutarmi a far crescere questa community. Io come al solito non ho nulla da aggiungere, quindi Persone, buona visione! Oggi qui con me c'è Mikol, benvenuta! Grazie! Diciamo che questo intro in cui dico gente comune è un po' una contraddizione perché in questo mondo sei non poco conosciuta. Io come sempre quando faccio queste chiacchiere cerco di essere il più spontaneo e amichevole possibile. Faccio finta che quelle cose non esistono. Se sono qui è perché voglio scoprire questa realtà, voglio scoprire Mikol, perché sei arrivata qui, che cose hai fatto nella tua vita, in modo tale che anche chi ci guarda poi può immedesimarsi più facilmente quando legge le notizie, quando legge una storia riguardo questo mondo. Quindi in qualche modo voglio mettere un lente in grandimento sull'MMA e sul Mikol. Come sempre, come faccio con tutti, solitamente all'inizio chiedo di presentarsi. Quindi se vuoi darmi un po' l'idea di chi è Mikol, che cosa ha fatto nella sua vita, diciamo più da giovane, e poi piano piano andiamo a sviluppare il discorso fino ad oggi. Io mi chiamo Mikol, ho 35 anni, sono nata a Roma, in un quartiere nella parte nord della città. Ho studiato al liceo classico, ho fatto scienze motorie all'università, allo IUSM, e ho conosciuto questo sport un po' per caso. Io lavoravo come body piercer in vari studi di tatuaggi, facevo la modella per riviste di tatuaggi, insomma, e roba del settore. Lavoravo come modella per un sito che si chiama Suicide Girls, che è una versione tatuata di Playboy. E nulla mai avrei pensato di finire a fare questo, insomma, non ho mai fatto sport in vita mia. L'unico momento in cui ho pensato di cambiare lavoro mi sono messa a studiare e lavorare come educatore sinofilo, quindi proprio nulla di relativo allo sport. E a un certo punto, in uno di questi studi dove lavoravo, c'era il proprietario, che era il fratello del proprietario di una palestra, che è questo ragazzo qua dietro che sta facendo sacco. Quindi il suo fratello mi ha portato in palestra per la prima volta, mi ha fatto vedere questa palestra, in cui si faceva questo sport. Le ragazze non lo facevano, facevano solo la parte di lotta. E poi la sera c'erano i ragazzi che entravano in questa gabbia. Noi da sotto la sentivamo tremare, vediamo questi, mi sembravano tipo 300, cioè questi spartani che combattevano, giovani, belli. Quindi li guardavo con ammirazione. Dicevamo, mi piacerebbe anche a me un giorno essere là dentro. Chissà se potrei. Mi piacerebbe vedere se posso. Quindi ho iniziato con le competizioni dilettantissiche prima di lotta, poi ne ho vinte parecchie, quindi a un certo punto ho chiesto beh posso provare anche con i colpi. E la prima gara che ho fatto l'ho vinta in 30 secondi. Ah, proprio? Con il caschetto, con il paranaso, insomma, super protetti, tipo Mazinga. E a un certo punto ho chiesto dai fatemi provare, fatemi combattere anche a me. Quindi mi hanno fatto entrare, ero l'unica ragazza in un gruppo di ragazzi. Quindi io diciamo da sempre. Ah, proprio l'unica? Sì. Sono 15 anni che sono quasi sempre sola. Insomma, quasi sempre l'unica ragazza in un gruppo di uomini. Quindi man mano che la qualità degli incontri che dovevo fare è aumentata, avevo bisogno di partner donne. Ok. Quindi diciamo all'inizio mi sono sempre allenata con i ragazzi. Sono arrivata a competere in competizioni internazionali. Ho vinto un mondiale a Las Vegas. In the red corner representing team Italy Micheal è segnale. E da lì mi sono resa conto che per passare al professionismo avrei avuto bisogno di un diverso tipo di compagni di allenamento. Ok. Ti posso fermare? Sì. Perché così cerchiamo, proprio per quello che ti dicevo, di andare poi a analizzare le varie cose. Per non spoilerare anche troppo perché sono dell'idea che tutte le persone direvano da un percorso. Ok. Quindi se tu sei qui è perché ho fatto tante strade. Esattamente. Quindi mi piacerebbe analizzare questa strada partendo dall'inizio. Ok. Addirittura prima del fatto che non conoscessi questo sport mi dici fai scelte motorie. Perché questa scelta in qualche modo poi è collegata allo sport che fai ma non lo sapevi? Sì. Diciamo che io ho iniziato dopo il liceo mi sono iscritta a marketing. Ok. Non mi piaceva. Ok. Ho mollato e mi sono messo a studiare per fare educatore sinofilo. Ok. Quando poi ho conosciuto questo sport ero talmente incompetente e mi sentivo talmente in ritardo perché comunque l'ho conosciuto tardi per fare l'agonista a 24-25 anni e sono tanti. Ho detto devo diciamo colmare questo gap questo gradino in qualche maniera quindi mi sono iscritta a scienze motorie. Ho deciso di compensare diciamo il tempo perso con delle competenze più alla base. Quindi c'era della consapevolezza per cui... Già c'era un sport nella mia vita quando ho deciso di intraprendere il percorso di studi allo uso. E allora ne approfitto per farti questa domanda io ho avuto l'opportunità di conoscere studenti top atlets che comunque hanno un tipo di vita abbastanza piena di impegni come riuscivi a in qualche modo coordinare... Ho lasciato l'università l'anno che dovevo fare mondiali perché il mio sport non era riconosciuto dal CONI non mi davano l'esonero dalle frequenze come atleta ad alto livello il fatto che io fossi in nazionale però era irrilevante perché appunto il mio sport non è patrocinato dal CONI e quando io sono tornata con un oro mondiale mi hanno detto bene devi ripetere tutte le frequenze di quest'anno perché perché non c'eri e io mi allenavo anche col gruppo sportivo di rugby ero l'unica donna che giocava a rugby con i ragazzi quindi non potevo fare le competizioni universitarie con i ragazzi ma dovevo andare agli allenamenti e io facevo sia gli allenamenti rugby all'università che gli allenamenti per il mondiale quindi a un certo punto non ce la facevo più dicevo mi devo concentrare a un mondiale da vincere e non hanno dato nessun tipo di sostegno a questa cosa ci sono rimasta malissime così sinceramente io all'università dello sport vengo trattata come se è tornata con questo sotto bicchiere te lo potresti essere fatta da sola quando sono l'oro dei mondiali ma io ho fatto cinque match in cinque giorni sono qualcuno ho vinto i mondiali sono un atleta di livello e dopo questa vittoria mi hanno offerto un contratto nel professionismo ho detto vabbè me la prenderò con tutta la calma nel mondo ci occupiamo di altro e questa cosa prima o poi la vuoi riprenderla vuoi terminare o dici non me ne importa niente sinceramente vabbè ci sta giustamente per l'ambiente in cui lavoro quello che io ho fatto sul campo vale più o meno come una laurea se non di più credenziali per dove ho combattuto per come ho combattuto per quanto ho combattuto mi bastano certo assolutamente se voglio rimanere in questo ambiente se poi voglio mettermi a insegnare mini basket già non va più bene non vale più nulla di quello che ho fatto ci arriviamo sul tuo futuro ovviamente una laurea è sempre utilissima ed è sempre una scelta giusta per me in quel momento non era la cosa giusta e poi la priorità è stata fare altro diciamo che questo questo può essere anche un modo per sfatare il mito del se non ha una laurea non fai niente però se non ha una laurea mamma continuerà a lamentarsi fino alla fine dei tuoi giorni questo assolutamente anche se ho provato a convincere mamma che avere il figlio campione del mondo è più raro che avere il figlio laureato quante tue amiche hanno il figlio campione del mondo e quanti laureati vabbè un po' l'ho convinta infatti volevo proprio arrivare su questo sul come comunque la tua figura l'hai detto anche te è unica nel senso che sei come dice sei l'unica donna qui dentro sei ho letto diverse interviste sottolinei sempre questa cosa del fatto che in Italia essendocene poche tu per allenarti devi andare in giro e da una parte immagino la tua voglia la tua volontà di dire sai che c'è vado pure dall'altra parte del mondo però dall'altra appunto li sanno dei genitori che in qualche modo o sostengono o cercano un po' di tirare le regine sai mia madre è stata una sportiva mia madre ha fatto scherma per tanti anni mio nonno era sportivo giocava a rugby quindi vengo da una famiglia di sportivi mi hanno sostenuto sempre per quanto mia madre l'idea che io prendessi pugni in faccia non le è mai piaciuta ovviamente si sportano le piace ha paura ha violento ha poi ha capito che non è violento però comunque la graficità del nostro sport impressiona una mamma quindi lei ci viene a vedere i miei match ci viene così però ci viene cioè quando ho combattuto a Roma in realtà io ho combattuto quasi tutta la mia carriera all'estero quindi non ci è mai potuta venire quando ottobre scorso ho combattuto a Roma c'era lei ovviamente come ho vinto sono andata a abbracciarla è stata una cosa bellissima vincere con mia madre lì presente c'era mia sorella insomma mia sorella è una tifosa pazzesca certe volte non ho potuto caricare dei video di dei match perché c'era mia sorella che urlava cose improbabili irripetibili a bordo cabbio e tipo vabbè ho vinto però mia sorella è un tifo al limite del legale però è anche bello fichissimo fichissimo vabbè una super fan la mia migliore amica le mie amiche insomma e questo gruppo bellissimo che abbiamo qui e comunque sono di enorme sostegno e appunto quindi piano piano andando avanti nella storia che mi facevi prima hai detto che arriva a un certo punto in cui ti fanno scoprire questo sport sono d'accordo sul fatto che giustamente ci sta che uno lo scopre uno dice vieni prova però poi dal provarlo al rimanere qua e lavorare che è successo? ma io che cosa ho fatto tutta la mia vita senza fare questa cosa ma è divertentissimo cioè io posso lanciare per terra le persone strangolarle ed è stata la prima volta che certe cose mi riuscivano io non sono mai stata portata né dotata negli sport non ho un fisico particolarmente atletico né particolare forza di volontà ho mai avuto fino a che non ho trovato una cosa che mi piaceva così tanto zero ho scoperto questa cosa e ho fatto a me questa cosa fa venire voglia di alzarmi alle sei di pomeriggio mettermi in macchia farmi un'ora di macchina andare là allenarmi fino alle dieci di sera ok quindi per la prima volta ho detto oddio cioè qualcosa che mi interessa mi piace veramente qual è la mia strada mi ero rotta le scatole il mondo del tatuaggio ho detto i piercing sì ok è bello ma stanno anche un po' passando di moda posso fare questo tutta la vita faccio la modella posso fare la modella tutta la vita no non sono Kate Moss non sono alta due metri insomma posso giocare a fare questo l'educatore cinofilo sì mi piaceva ma mi sono resa conto comunque non era una carriera così remunerativa che mi avrebbe permesso di viverci bene quindi che faccio però scusa in un momento della mia vita in cui ero un po' in una fase che faccio ok quindi comunque lavoravo sui tatuaggi comunque guadagnavo parecchio quello era il tuo lavoro il mio lavoro era lavorare sui tatuaggi dove io comunque facevo la body piercer facevo la shop manager ok quindi a un certo punto ho detto ok prendo due appuntamenti di meno la sera mi posso allenare ho iniziato a andarci tutti i giorni ok e le prime gare io non le ho preparate preparando la gara le ho preparate allenandomi al corso serale degli amatori certo pure i primi match non è che li ho preparati col preparatore stavamo lì in palestra tutti insieme ci si allenava e poi si va a combattere e non c'era cioè mi metto nella tua testa proprio in quello in quello che facevi tu hai iniziato con la curiosità del voglio provare ok a un certo punto già fare le gare significa comunque iniziare a dire non è solamente un hobby io non avevo ragazze quindi ho detto io mi voglio misurare con delle ragazze del mio peso e vedere a che punto sto ah quindi solo per quello era quindi all'inizio ho detto vediamo a che punto sto ok competo nella categoria più bassa con quelle che come me hanno iniziato da pochi mesi vediamo che aria tira ho vinto vediamo che aria tira al gradino sopra ho vinto vediamo che gradino tira cioè a che gradino possiamo arrivare se ci mettiamo pure i colpi ho vinto a un certo punto ho fatto vabbè in nazionale non c'è una 56 kg posso provare a entrare in nazionale così ci proviamo vediamo che succede vediamo se una volta posso combattere nella gabbia perché tutti gli incontri io li avevo fatti esatto ok quindi ho detto vabbè allora vediamo se veramente posso fare questa esperienza da raccontare ai nipoti ho combattuto una volta in una gabbia ok e quindi faccio questa selezione per la nazionale dove mi trovo con un'altra ragazza che era un peso più alto del mio facciamo un incontro bellissimo ci danno il posto a tutte e due in nazionale quindi una a 60 kg e una a 57 io facevo 57 kg peso naturale adesso sei 52 adesso faccio 52 e nulla con questa ragazza poi siamo diventate amiche siamo andati insieme a fare mondiali un anno abbiamo preso il terzo posto l'anno dopo siamo tornati e abbiamo vinto entrambe il mondiale quindi abbiamo fatto un signore incontro come il nostro primo incontro durante il mio primo incontro primo minuto il primo rando mi si rompe il braccio cioè la ragazza mi prende una leva e mi si rompe il braccio il braccio mi si sloga al punto io lo riesco a sfilare e riesco a fare questo incontro con il suo braccio dislocato che comunque lo tiravo su mi cascava da tutte le parti ma lì l'adrenalina fa sì che non senti niente allora a fine primo rando sono tornata all'angolo ho fatto maestro mi sono rotta il braccio lui che vuoi fare interrompiamo vuoi andare avanti ho fatto no non mi fa così male da interrompere sto qua quindi sei tu che decidi cioè in quelle dinamiche le parli insomma se il medico o il coach vedono un osso di fuori ti fermano una ferita da sangue brutta le ferite da sangue per esempio non te ne accorgi quanto è grave cioè il sopracciglio così uno non lo fa dici non sai se si è aperto totalmente mentre invece in quella situazione ho detto vabbè a sensazione te la senti io si si me la sento finisco questo incontro l'incontro va bene alla fine comunque riuscivo a tirare i colpi anche col braccio si riuscivo a prendere il braccio e tirarlo a terra e lottare bene o male quindi poi dopo siamo accorti c'era una piccola frattura una dislocazione un problema ai tendini però poi avevo i mondiali quindi fisioterapia di corsa per riaggiustare questo braccio però insomma finisco questo match vado dal mio coach vado che sticata ma va così mi fa guarda che non va così tutte le volte scusami al volo dopo quanto tempo succede? nannetto sei maniesto prestissimo prestissimo il coach mi fa guarda non va così tutte le volte non è che tutte le volte non si rompe il bacio guarda se va così tutte le volte ci sto se poi va meglio ancora meglio quindi per me così vabbè lo posso fare di nuovo quindi a un certo punto sono arrivata che lo posso fare di nuovo vado a fare questo mondiale il mondiale è stata un'esperienza tosta perché comunque c'hai cinque incontri in cinque giorni ok eliminazione diretta cioè ogni giorno è un incontro sì e quindi se c'hai infortuni se ti sei tagliato non vai avanti anche se hai vinto ah ok ok quindi non solo devi vincere cioè non ti hanno la possibilità di farlo da acciaccato no ok devi vincere devi vincere bene non ti devi neanche fare male quindi niente arrivo a fare questo turnio in semifinale mi trovo una ragazza che adesso è in top 5 in UFC era già professionista insomma aveva preso degli integratori particolari ha preso un po' di polvere di stelle prima di questo sì sì perché poi l'hanno testata positiva dopo ok insomma quindi i testi fanno dopo non per forza prima subito dopo ok immediatamente dopo non è prima o dopo non è stupido quando vinci è fatto no 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 non puoi avere risultati immediatamente e non farlo competere lo fai competere e poi ti annullano casomai il risultato della competizione per lo show no cioè nello sport in generale se tu vieni testato ok vieni testato immediatamente dopo la competizione quindi ti annullano il risultato ok penso anche all'olimpiadi se testi positivo per doping non è che non competi ok ti squalificano dopo ti prendi dei mesi di squalificare sei mesi due anni e cose così quindi quindi niente feci quell'incontro molto duro una rusicata pazzesca che torno a casa col bronzo però la mia prima competizione internazionale va bene ho portato a casa sano il naso con l'infortunio che avevo avuto al braccio e tutto quanto però dott'anno prossimo torno e vinco e a livello di emozioni qual è il contrasto perché immagino la prima volta ero distrattissima che figata sto qua che batto che bello c'è gente da tutto il mondo una volta dopo stavo così la gente mi faceva no perché stasera siamo a Las Vegas andiamo a casa io zitti io devo mangiare l'insalata e il pollo 130 grammi non mi distraete non mi parlate quindi l'anno dopo sono andata per l'obiettivo il primo anno sono andata a vedere che succede oh mio dio l'UFC organizza un mondiale dilettantistico ci stanno i fighter wow la seconda volta sono andata a vincere ok così e ho vinto e che succede allora in questo anno in cui prepari in qualche modo il mondiale ho capito che i pugni fanno male quindi ho detto se voglio andare a competere devo stare attenta perché mi faccio male perché non è un gioco è uno sport duro non è uno sport come tutti gli altri è uno sport dove ci si fa male quindi o ci stai con la testa oppure ti fai molto male ho visto gente farsi male e in palestra poi mi hanno spiegato guardami col che se non stai concentrata ti fai male se vai a fare questo tipo di competizioni con la testa da un'altra parte o con la testa oddio vediamo che c'è qua ti fai male ho detto ok se voglio fare questa cosa seriamente devo farla con la testa ok e quindi ho cambiato qualità di allenamento insomma focus ed è un lavoro poi che mi sono andata portare negli anni perché comunque anno dopo anno devi imparare a essere sempre più concentrato sempre più la mentalità la mentalità immagino sia tutto devi rendere nell'allenamento il mille per cento non ti può permettere in quell'ora di stare a guardare in giro in quell'ora hai quell'ora per migliorare per crescere ho due cose che mi vengono in mente la prima tornando un po' diciamo in realtà alle basi hai detto tu stessa che è uno sport pericoloso uno sport di contatto questa cosa tu hai detto ti piace ad esempio a me io sono una persona invece molto più distaccata quali sono le sensazioni che provi cioè perché quella cosa di prendere la persona e schiaffarla per terra fargli sentire diciamo la tua predominanza no che cosa ti dà a costo di di dire una cosa un po' accettabile il piacere che io provo è nello spezzare il desiderio di vivere di una persona cioè tu ti stai arrendendo tu ti stai spezzando io sto spezzando la tua volontà tu sei venuto qua a imporre la tua volontà a farmi vedere che sei più forte di me io spezzo la tua volontà tu ti arrendi o batti o qualcuno interrompe oppure io dimostro per tre riprese che sono più dominante più forte e mi va più a me che a te bello ok vabbè è proprio istinto naturale alla fine ti domino sono più forte di te è abbastanza predatoria per me per me almeno come sensazione assolutamente ok c'è un discorso di miglioramento personale c'è un discorso di crescita è tutto ma il moto profondo è io domino te ok io sono più forte di te ok mi piace mi piace no ci sta ci sta e qui mi collego anche a un'altra cosa io purtroppo non conosco molto questo mondo però forse è quasi meglio perché posso farti le domande del classico boomer così da appunto sfatare molti percepisco una sensazione di voglia di far vedere agli altri di avercelo più lungo non so se capisci ok è una cosa di mentalità quindi io in qualche modo l'esempio emblematico è McGregor che col suo fare in qualche modo cerca di crearsi un personaggio che in qualche modo può andare a intimorire le persone quanto per te quella cosa esiste o per te solamente io vado lì ti devo sfondare il personaggio non può esistere se dietro non c'è l'atleta nel senso un McGregor che fa così e poi fa schifo quando combatte è un pagliaccio McGregor è un pagliaccio però è un pagliaccio che si può permettere di fare il pagliaccio si è potuto permettere adesso sta scadendo male perché sono tanti anni che non vince e quindi uno dice allora McGregor è un pagliaccio prima dicevano ok ci crede talmente tanto che la mentalità è tutto allora ok crederci ok la mentalità è tutto non c'è bisogno di fare i bori c'è chi facendo il boro funziona bene c'è chi non funziona così io penso che più che cercare di fare il personaggio uno è se stesso se poi sei personaggio o non sei personaggio quello esce fuori dopo quello serve per le pay per view ma per essere un bravo atleta non serve essere un personaggio tutti i fighter hanno una storia interessante dietro sono tutti un po' personaggi siamo tutti un po' certo quindi qualcosa da raccontare ce l'abbiamo tutti quanti ok no allora forse quello che mi interessa è più a livello poi di uno vi uno nel senso che tu hai un opponente che in qualche modo per immagino qualche mese prima sai a volte qualche mese a volte qualche settimana anche giorni ok sì perché magari tu ti stai preparando per un incontro l'avversario a dieci giorni al match si fa male e te ne trovano un altro ok oppure sei quello che chiamano perché qualcuno si è fatto male qualcuno si è fatto male vuoi combattere ok sono in forma vai ok e quanto lì ci sta una preparazione sull'altro mi spiego mi spiego bene ci studi l'avversario tecnicamente guardi video in una battaglia cioè in una battaglia in un incontro tu ovviamente fai il tuo per allenarti per dare il 100% quell'allenamento quanto è improntato sull'altra persona e quanto su te stessa quando non hai il match è tutto su te stessa aggiungi nuove skill ok quando fai il match levi tutte le cose che fai così così fai solo quelle 3-4 cose che sai fare bene a ripetizione proprio quotidiana e quelle cose quelle cose che sai fare bene le selezioni tra quelle che funzionano per quel tipo di avversaria quindi tu vedi l'avversaria vedi quella come si muove scegli che tipo di attacchi e difese dovresti utilizzare contro quel tipo di avversaria e lavori su quelle riducendo la quantità di roba su cui lavori perché se ci sono degli attacchi che con quell'avversaria ti potrebbero esporre di più non funzionano non ti vengono bene vanno levati dagli allenamenti quindi diciamo che fai meno cose più intensamente più ripetute ok e più specific quindi ci sta mi viene di consenso una domanda immagino che dietro di te ci sia un team si il take an army quante persone sono e che cosa fanno? molte più di quelle che uno può immaginare perché non è solo allora c'è un head coach uno striking coach un grappling coach un wrestling coach un preparatore atletico fisioterapista nutrizionista eccetera eccetera non solo c'è ogni singola persona che ti serve tutti i giorni per allenarti perché se tu non hai un compagno bravo tu non ti alleni bene se il tuo compagno non ti dice guarda questa cosa stai facendo su di me non funziona falla meglio o ok questo lo sento ok questo non va non serve a niente e devono essere diversi non può essere sempre lo stesso perché dopo un po' ti abitui certo conosci anche quindi non è solo il coach il preparatore il fisioterapista è tutto l'ambiente che ti porti appresso è il segretario che ti accoglie col sorriso la mattina e ti mette in un buon mood è la persona al bar che ti prepara lo shake di proteine come ti serve è tua madre che torna a casa e c'è il pollo pronto è il fidanzato che ti fa il massaggio ai piedi la sera perché arrivi e ti fa male tutto ti mette la crema sul ginocchio perché c'è una gamba così è tutto il contorno dello staff ok no perché appunto immagino che poi uno più sale di livello più giustamente tu devi essere concentrato ad allenarti e poi il lavoro di guardare come combatte quell'altro qual è il cibo migliore che puoi mangiare così sono cose che alcune cose le impari da solo alcune cose dopo un po' ti abitui dici ok per me funziona questo alcune cose c'è bisogno degli specialisti che ti indirizzano e infatti qui volevo arrivare a un tema che diciamo in primis mi interessa che è quello dell'alimentazione immagino che la tua vita sia abbastanza in qualche modo monotona sotto quel punto di vista è uno sport che proprio preclude al disturbo alimentare perché tu devi rientrare in categoria esatto quindi rientro in categoria non tutti gli atleti riescono a vivere a un peso che ti permette di rientrare in categoria che per spiegare a chi ci ascolta in pratica voi dovete rientrare dobbiamo raggiungere un certo peso la cosa è questa che avendo il peso il giorno prima noi abbiamo la possibilità di ricaricare e riguadagnare del peso perso per poter rientrare in categoria quindi siccome lo fanno tutti tocca farlo il taglio del peso il taglio del peso è una pratica infame che ci mette in condizione di perdere tanto peso in poco tempo e riacquistarlo in poco tempo dice inutile perché se lo fai te lo fa pure quell'altro perché lo fai tutti e due perché lo fanno tutti il gioco è chi riesce a farlo meglio rimanendo più in salute perdendo meno energie e riguadagnando quanto più peso è utile riguadagnare perché non sempre è utile guadagnarne tantissimo a volte ne basta poco a volte dipende anche da gli avversari devi essere più pesante dipende dall'avversario da quello che devi fare quindi la dieta tremenda per arrivare a un peso da cui poi dopo puoi scendere per fare quel famoso taglio che è una riduzione dei liquidi molto drastica insomma per farla breve quindi sì alimentazione molto stretta c'è chi è bravo tutto l'anno e riesce a fare meno su e giù io dopo l'incontro mi mangio anche le pareti del viaggio a me piace mangiare mi piace cucinare ho vissuto tanti anni in America quindi mi piace la cucina americana barbecue super ricca mi piacciono le cheesecake quindi purtroppo cucino anche bene quindi mangio e cucino cucino e mangio e poi dopo dovevi entrare in categoria mani nei capelli ho imparato negli anni a non esagerare a riuscire a mantenermi più o meno in forma la cosa importante è non smettere di allenarsi perché almeno mantieni la preparazione poi se hai 5 kg in più 3 kg in più una volta che sei in preparazione levi le gestisci 500 calorie ed è fatto ok ok beh è interessante e allora noto che comunque appunto mi hai detto lo faccio perché devo arrivare a un obiettivo però di base mi piace mangiare esatto quindi c'è mai stato un momento in cui adesso prendiamo di cibo ma anche in generale hai detto sai che c'è ma chi me lo fa fare quando mi fidanzo quando sto con un compagno quando passo dei bei momenti voglio andare a cena fuori voglio stare a casa voglio andarmi a fare la passeggiata voglio andare al mare ma perché io oggi mi devo alzare da andare in palestra posso svegliarmi e restare con il mio uomo né figli né famiglia perché come fai figli e famiglia il focus va da un'altra parte ho visto troppi atleti smettere o rammollirsi perché cioè rammollirsi è una parola brutta intenerirsi perdere quella fame il guizzo di cattiveria negli occhi perché perché sei un papà perché sei una mamma alcuni ce l'hanno avuti i figli sono andati avanti nella carriera è tutto ma ne ho visti troppi perdersi mi sono sentita perdermi tante volte inizia una relazione ti prende il momento di amore verso il mondo ed è un amore io non mi posso permettere quindi quando dopo sono sola mi rendo conto sono più più cattiva più efficace più concentrata e questa cosa come ti fa sentire? una bestia cioè non in positivo o in negativo? in negativo ok quindi un po' ce l'hai quel beh mi fa sentire anormale mi fa sentire come le donne della mia età tutte vogliono sposarsi e fare figli io voglio solo combattere mi fa sentire anormale in un senso positivo in un senso mi sento speciale mi sento diversa però da una parte mi rendo conto pure che parlarne mi fa sentire un po' strana ok certo perché dici mi guarda attorno nessuno è come me quindi quando mi presento io sono 35 anni quindi i bambini io no c'ho il match 29 vorrei combattere e ti senti a disagio? no ok no non mi sento a disagio sono molto orgogliosa della mia scelta però mi rendo conto che non è una cosa socialmente accettabile è vista un po' così cioè che ne so vai al matrimonio e a te quando ti tocca chi parli? no io ragazzi ho il match cioè tra due mesi ho il match ok non esiste ma ugualmente non esistono vacanze cioè le amiche ti dicono andiamo prenotiamo la vacanza prenotiamo la vacanza hai buttato i soldi perché poi ti esce il match combatti un mese dopo la vacanza che fai? ti sei fatto un mese di vacanza? no quindi amicizie rapporti personali vengono comunque parecchio sacrificati ok una vita di sacrificio come guarda a me non piace definire una vita di sacrificio perché non è che mi ha obbligato qualcuno io lo faccio perché mi piace quindi quando mi dicono che ne so sto facendo la dieta prima dell'incontro io non ti mangio il gelato davanti a me non me ne frega niente il tuo gelato perché il gelato io me lo posso mangiare per tutta la vita però non posso combattere tutta la vita tu ti mangi il gelato io combatto a me mi dispiace per te che ti mangi il gelato perché io combatto ok quindi si sacrifici è vero ne facciamo tanti sacrifici però sono sacrifici belli sono sacrifici che alla fine ti pesano ma fino a un certo punto perché lo stai facendo per un sogno quindi un sogno che poi dopo lo tocchi con mano tutti i giorni cioè io sto qua dentro tutti i giorni questo è quello che faccio tutti i giorni vale sempre la pena ci sta una cosa che mi viene in mente proprio sul fatto che adesso tu lo fai perché sai cosa stai facendo e cosa vuoi fare quindi c'hai questa mentalità perché in qualche modo hai un obiettivo cioè dici io mangio in quel modo mi alleno in quel modo perché ho la gara perché la devo vincere perché devo essere la migliore questa è la tua mentalità di adesso quando non hai la gara è terribile eh esatto ma anche prima di iniziare a diventare professionista comunque un'alerta che che mi alzo a fare la mattina è quella la domanda cioè quella mentalità da dove nasce quale mentalità quella del ok adesso anche che io ancora non ho vinto niente ancora non so che diventerò perché ho trovato una cosa fighissima da fare ah che figata ok quindi che figo mangiare in quel modo no 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 che bello vado in palestra per essere più funzionale in palestra sì 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 quello intendevo non mi piace mangiarmi il nasello con il mestrone però se me lo mangio so che arrivo a quello posso fare la gara faccio la gara mi diverte fare la gara quindi vale la pena che ne so andiamo una settimana in Sicilia che ti importa di più andare una settimana in Sicilia o performare bene al match in Sicilia ci vado dopo mi interessa più il match quindi non non è la rinuncia oh Dio mi piace rinunciare a quello no mi è utile per cioè è tutto improntato su cosa è utile cosa mi serve in questo momento cosa mi serve cosa mi fa stare bene stare qua dentro allenarmi combattere vincere sognare il mio braccio alzato immaginarmi il pugno che tocca il viso dell'avversario mi fa stare bene sì lo faccio non mi fa stare bene faccio altro è un bellissimo messaggio perché fa capire alle persone che per arrivare dove vuoi arrivare non è solamente voglio ma è anche devo quindi devo sacrificare determinate cose devo perché voglio se trovi una cosa che ti piace non ti pesi niente sono d'accordo così quindi diciamo che in realtà poi sei stata anche fortunata perché senza il tuo amico che ti diceva cugino amico un fratello del proprietario della palestra quindi totalmente a caso un collega di lavoro il proprietario dello studio di tatuaggio dove lavorava mi ha detto allora passiamo a trovare mio fratello e secondo te ovviamente è una domanda un po' difficile non ci fosse stato quell'amico chi lo sa cosa ti ci sanno altre passioni cioè secondo te quella appunto prima mi dicevi la passioni cinofila sì però ma probabilmente avrei cominciato a lavorare con i cani non lo so perché mi piacciono molto gli animali ma non non vedevo grossi sbocchi lavorativi come per i tatuaggi non lo so avrei dovuto trovare qualcos'altro e mi appassionava cercavo una passione cercavo qualcosa e mi facesse venire voglia ad alzarmi a letto la mattina non la trovavo e non non avrei saputo dove cercare ok perché tutto pensavo tranne che lo sport potesse essere la mia strada andavo in palestra mi sembriva in palestra a settembre ci andavo una volta non ci andavo più ah quindi proprio neanche sportiva mai fatto sport in vita mia da bambina non giocavo a pallone giocavo con le bambole mi tirate la terra addosso mai arrampicata su un albero quindi quando io ho cominciato non ero proprio coordinata non ero proprio portata perché da bambina non ho saltato corso arrampicato ho fatto tutte quelle attività che fanno in bambina stavo così giocavo con le barbie ero tipo ero tipo principessina col vestito con la coroncina quindi non mai ho pensato c'è uno sport mi facevo palla a volo ma era una una picca più per fare uno sport perché che ne so tutte le amiche facevano palla a volo facevo palla a volo ma non ero il suo fenomeno quindi non avrei proprio saputo dove cercare una volta vicino casa c'era una palestra di pugilato ero andata una volta a vedere così ma una lezione prepugilistica fatta un po' ma che è sta cosa mentre invece la lotta avendoci poco di coordinazione essendo dei movimenti a terra che abbastanza intuitivi cioè se vado qua succede questo se vado qua succede quest'altro mi veniva meglio mi veniva il primo sport mi è venuto naturale che capivo le cose mi funzionavano le cose quindi ho provato per la prima volta quella soddisfazione e provano i bambini quando calciano la palla e va dentro dentro la rete io non ho mai calciato una palla mai finita dentro una rete la prima volta mi è finita una persona nella mia rete strangolata ciao bello questo è il mio ok questa è la mia rete questa è la mia rete e per quanto riguarda invece poi i rapporti umani tutta la tua vita è legata a questo mondo o in qualche modo riesci anche ad avere delle realtà che sono appunto fuori da questo ambiente si provo con enorme fatica ok ho delle amiche ovviamente amiche e amici fuori ambiente amici di sempre ma stando tante ore in palestra comunque la mia vita è quasi completamente assorbita da questo pure perché sinceramente sono noiosa parlo solo di questo cioè vabbè anche perché quando conosci una persona nuova wow fai questa cosa raccontami io faccio l'impiegato in banca raccontami tu che fai ok quindi ovviamente tutto quello che facciamo porta apprezzo dei discorsi interessanti delle descrizioni colorite la gente vuole sapere quindi la gente quindi la gente inizia a parlare sempre di quello e poi la gente ti si avvicina facendo oh non mi menare basta che non mi meni e oddio si dici mamma mia anche tu attento pugnetto quindi quando ti si avvicinano le persone non del tuo ambiente i primi dieci minuti sei sempre la doccia di cubetti di ghiaccio ok ok la mossa karate no quello è karate kid e poi immagina un sacco di storie ma lo fai lo stile della scimmia ubriaca oddio ok magari pensando di essere pure simpatici e di rimarchiare così di solito no la tecnica d'approccio è basta che non mi menotti e meno guarda si te meno vattene se continui te meno ok e sempre diciamo più o meno su questo tema se ci sono delle cose che da interna proprio per cercare di sfatare vorresti tu dire cioè dal tuo lato non ti rompo nel naso alla prima lezione ok quindi quello è il primo che mi dicevi il naso rotto il naso tanto carino tutto il primo stereotipo è quello se vai a fare uno sport del genere nessuno ti romperà il naso il maestro non ti rompe il naso il primo giorno farà di tutto affinché nessuno ti rompa il naso ok ok poi si ci si fa male come ci si fa male in tutti gli sport non ci si fa più male che in altri sport bisogna soltanto stare attenti allenarsi con gente competente andare in un posto serio non è vero che nelle palestre ci sono soltanto violenti picchiatori anzi di solito uno sport da combattimento un'arte marziale ti fa abbassare la cresta i galletti qua sono molto curioso sono molto curioso ti rimette molto al tuo posto ok quindi se vuoi fare il gaggio vuoi fare il fighetto vuoi fare il duro è il posto sbagliato dove farlo perché ci sta qualcuno di più umile di te che ti fa una faccia così e ti rimette al tuo posto quindi secondo me pure per i bambini le arti marziali di sport da combattimento sono un'ottima scuola kickboxing il judo qualsiasi cosa possa essere anche il karate insomma mette un bambino in condizione di sapere qual è il limite contiene tutte le situazioni che potrebbero sfociare in bullismo ti fa rendere conto di qual è la forza qual è la forza da utilizzare e se una persona chiama la resa devi mollare cioè la cosa più bella che questi sport possono insegnare a dei bambini è proprio il controllo della forza il controllo del ok sei in una condizione di poter fare più male e mi fermo so come immobilizzare una persona non come attaccarla non ti insegno a prendere a pugni un bambino che ti bullizza ti insegno come cintarlo portarlo a terra tenerlo lì e fargli rendere conto che è meglio che sta fermo qua e che non si comporta più male io ho allenato per un periodo un bambino che veniva spesso bullizzato a scuola lo prendevano e lo mettevano dentro al secchio della spazzatura gli buttavano lo zaino e un giorno è venuto da me e mi fa l'ho strangolato e io ero pure preoccupata quando era la madre gli ho fatto guarda mi dispiare e mi fa no no finalmente si è difeso questo bambino gli si è avvicinato lui l'ha acchiappato l'ha buttato per terra l'ha strangolato e gli ha detto se mi butti un'altra volta lo zaino nel secchio della spazzatura io non ti mollo più però l'ha mollato ok il ragazzino con la tosse per terra comunque si è reso conto che non poteva più fare lo scemo e questa cosa a me mi ha fatto piacere immagino immagino anche perché eri te che hai insegnato a lui cioè no lui mi aveva detto mi insegni hai visto McGregor ha perso mi fai vedere come ha perso McGregor perché si hanno battuto McGregor così e anche io posso battere qualsiasi bull gli ho fatto guarda il bullo si batte così ok beh mi piace diciamo che questa cosa prima ho letto lì ci sta una scheda con il regolamento sì e effettivamente noto come in questo sport ma come hai detto te in questi in questi sport di arti marziali ci sia una disciplina che in qualche modo aiuta anche a dare un contesto ancora più non mi viene il termine un contesto quasi culturale cioè non è solamente fare sport è anche insegnare una morale è anche dare dei principi cardine guarda una cosa su cui io insisto molto è sulla pulizia della palestra essendo uno sport a contatto rischiamo spesso malattie infezioni ti tagli ti graffi ti puoi passare qualsiasi fungo qualsiasi schifezza quindi una cosa su cui abbiamo insistito per che era che la palestra venisse pulita e ci ritrovavamo tutti i lunedì i corsi ci mettevano in fila ci scrivavano ragazzi girano le infezioni dovete pulire la palestra a un certo punto hanno detto basta non vi diciamo più caggio per voi tante persone sono prese brutte infezioni sono saltati addirittura degli incontri perché delle persone avevano delle ferite con delle infezioni gravissime e allora lì secondo me è la palestra che deve insegnare l'educazione abbiamo fatto dei turni io ho detto ok chi vuole partecipare alla pulizia della palestra non mi interessa chi non lo vuole fare mi interessa chi lo vuole fare ditemi chi lo vuole fare lì ci sono i turni lì ci sono i turni iscritti ogni persona deve pulire la palestra una volta ogni due mesi sono messi tutti quanti a turno vanno là leggono oggi è il mio giorno passano l'aspirapolvere puliscono non ci sono più stati problemi ed è stata una cosa fatta volontariamente quando chiedevamo ok ragazzi pulite la palestra tutti sì sì ma puliamo la palestra quando li prendi uno per uno e dici ok la vuoi pulire la palestra sì o no se non ti va non c'è problema però chi gli va me lo dica e ci sta i ragazzi puliscono tutti i giorni la palestra è pulita tutti i giorni e si sono autoregolati cioè non è che io sono qualcuno io sono la più piccola sono una femmina non ho praticamente nessuna autorità se non di dire ragazzi ci tenete facciamolo bello e lo stanno facendo e quando un bambino sale su un tatami e sa che se ne deve prendere cura come se fosse la sua cameretta o anche meglio impara che è il suo spazio che è casa sua questa se ne deve prendere cura impara pure a prendersi cura di casa sua a casa e chiedi il permesso prima di salire impari a bussare alle porte sono delle cose che ti insegnano un'educazione di base pure di vita bellissimo quindi secondo me è giusto che una palestra le insegni e mi dispiaccio quando poi l'educazione non viene forzata in palestra non dici vabbè quello è entrato non fa niente no è giusto che uno saluti è giusto che uno ogni volta che sale sul tatami e sale in gabbia saluti il posto saluti i compagni saluti il maestro si chiede il permesso sono delle cose che no è bellissimo sono completamente d'accordo anche perché immagino che spesso magari le famiglie stesse non educhino i figli a me è capitato spesso allenare i bambini ogni tanto i bambini sono delle belve sono delle belve ma i genitori sono i primi cioè magari andavo a casa ad allenare i bambini mi facevano calci te li lascio prendevano e uscivano i bambini si picchiano non mi puoi lasciare due fratelli di otto anni che si picchiano e si prendono a calci e tu genitore te ne vai tu stai là con me e se c'è qualche problema interviene l'autorità io alzo le mani certo io non mi prendo la responsabilità di due bambini che si fanno male o che mi dicono tanto ti pagano lo stesso io sto qua a giocare la playstation almeno mi vado ad allenarmi è capitato e io che faccio lì lo prendo a pizza il bambino no chiamo il genitore e ti dico ma io ti ho pagato un'ora ci stai te no io non faccio la babysitter sono venuta qua a fargli fare sport se il bambino non vuole fare sport o se tu non sai insegnarli che questa è l'ora in cui si fa sport non è il mio lavoro il mio lavoro è se tu il bambino me lo porti qua io qui gli insegno che cosa può fare e cosa no ok e lì poi lo riesci a trasportare fuori buon per lui buon per voi insomma ok per andare verso la fine di questa intervista immagino che tu non so quale sia diciamo l'età per cui a un certo punto uno inizia a dire quando il corpo non regge più ok quando non ce la fai più con le diete a rientrare nel peso ok quando non ce la fai più allenarti quando in palestra inizi a non performare più inizi a non rendere come rendevi prima ti rendi conto e gli altri vanno avanti e tu no agli incontri ti rendi conto che le performance calano che non ce la fai più a reggere quei ritmi che anche cambiando tipo perché puoi aggiustare il tipo di allenamento ma a un certo punto non basta più e quindi prima di coprirti di ridicolo ti fermi o chi c'ha intorno se ti vuole bene ti ferma ti dice vabbè mo basta e lì dipende o ti prende il rifiuto totale che è un amore così grande quello per questo sport che proprio non ne vuoi più sapere niente vuoi cancellare tutto e dici ho fatto la mia carriera basta è finita come una storia è finita non ne voglio più sapere niente oppure non riesci a staccartene e ho una passione talmente grande che vuoi continuare a coltivarla vuoi continuare a averla intorno tutta la vita e quindi ti impegni per far sì che questo ambiente rimanga il tuo lavoro quindi ti puoi occupare sia di allenare le nuove generazioni di atleti per quanto riguarda me di atlete sogno di allenare donne ti puoi occupare dal punto di vista manageriale degli atleti ti puoi occupare della creazione dell'organizzazione di eventi ci sono tante cose che si possono fare interviste lavorare nel backstage ci sono parecchi sbocchi lavorativi che mi permetterebbero di rimanere in questo ambiente e tra tutti questi ce n'è uno che hai già in mente un po' tutti in realtà già sto lavorando in quella direzione sia da un punto di vista promozionale sia da un punto di vista proprio tecnico sia per lavorare come intervistatrice per il commento tecnico agli eventi sia per allenare le donne insomma per crearmi un mio gruppo di atlete da seguire perché non ci sono coach donne ma stai iniziando a crescere un pochino ogni tanto vengono delle ragazze iniziamo a averne di più prima io dovevo andare in America sempre per allenarmi poi ho iniziato a poter andare anche in Europa in Inghilterra c'è un bel gruppo in Spagna e adesso facciamo degli scambi vengono anche loro qui quindi essendoci una struttura del genere uno si può permettere di invitare delle atlete se non hai una palestra certo un team una struttura dietro fai anche brutta figura vengono nel senso dove dove t'alleni è meglio che vai tu quindi quando eravamo precari non avevamo una palestra o c'era una palestra più piccola o non c'era la gabbia o cose così ero anch'io dovevo andare pure per un discorso di struttura ad allenarmi da un'altra parte mentre invece come dicono in America if you build it they will come se costruisci un posto del genere la gente ci viene a allenarsi qua quindi mi capita sempre più spesso delle ragazze che sono andate a trovare nei loro camp nelle loro palestre all'estero siano poi volute venire ad allenarsi qua con me ok e per concludere io solitamente lascio sempre l'opportunità all'intervistato di lanciare un messaggio alle persone che ci stanno guardando tu immagini che lì dietro ci stanno decine centinaia migliaia non so quante persone che ti possono ascoltare e tu puoi lanciargli un messaggio che deriva non so da una tua morale dalla tua vita quale sarebbe? che il tempo passa comunque e di non avere paura che oramai è troppo tardi di fare le cose di iniziare provarci e tentare sempre di inseguire un sogno perché il sogno è più alla portata di mano di quello che uno crede perfetto perfetta così grazie mille grazie a te grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti miocchio disegno Grazie a tutti